Lupi in preparazione del match di Fermo, Campobasso pronto per una nuova trasferta, sicuramente difficile. La Fermana, seppur in stop forzato da due settimane per i rinvii maturati con Re Canatese e Matelica, non vince da oltre un mese. Il roster dei Canarini è sicuramente di buon livello, 13 i punti in classifica, uno in meno del Campobasso, ma con due gare da recuperare e con potenziali sei punti, la Fermana potrebbe accorciare al terzo posto in classifica. Situazione grazioso ancora in stand-by, il centrocampista sembra sulla via del recupero, ma i nodi verranno sciolti solo nel giorno prematch. Il ragazzo sembra comunque convocabile da Novelli, che valuterà con calma il suo eventuale utilizzo. Da verificare la scelta del portiere, dopo due mesi di titolarità Palumbo ha rifiatato contro la Civitanovese, lasciando spazio a Cotticelli, che si è ben disimpegnato. Da valutare dunque se Novelli ha optato per un avvicendamento parziale oppure motivato. Di certo al Campobasso serve una partita importante, soprattutto lontano dalle mura amiche, dopo il clamoroso tonfo di Gatteo a mare. Serve la squadra vista a basto, corta, cinica e cattiva agonisticamente, di certo non la prestazione scialba vista contro il San Marino. Siamo al 10 novembre e come ogni anno il pensiero non può che andare alla finestra di mercato, prevista dal primo al 17 dicembre. La società è intenzionata ad intervenire sul mercato, cercando di chiudere o migliorare qualche casella scoperta. Questo potrebbe anche dire divorziare da qualche tesserato che magari non ha convinto appieno in questa prima parte di stagione. Certo, queste tre gare di novembre, trasferta a fermo poi in casa contro il Fanalino Chieti e nuovamente fuori a Matelica, serviranno per definire il quadro della situazione sui movimenti di mercato. A proposito della squadra, sentiamo l'attaccante in prota. No, no, sono contento di essere andato in gol, ma la cosa che mi rende più felice è il risultato che abbiamo ottenuto. Penso che sia stata una vittoria meritata perché abbiamo subito davvero poco se non nulla. Ecco, dopo due turni in cui avevate perso senza giocare benissimo, oppure possiamo dire a corrente alternata, si può affermare che il Campobasso per raccogliere punti deve giocare praticamente una partita intensa dal primo al novantesimo? Non si può distrarre un attimo? Sì, io credo che le due sconfitte siano diverse, nel senso con il San Nicolò purtroppo al di là di dieci minuti quando siamo andati dopo il pareggio su rigore abbiamo avuto dieci minuti che abbiamo fatto bene. Poi per il resto purtroppo il resto è da buttare perché è come se non fossimo scesi in campo. Invece col San Marino siamo partiti bene, magari non abbiamo finalizzato, altrimenti forse si stava a parlare di un'altra partita, però non siamo stati continui. Quindi sono d'accordo sul fatto che purtroppo noi, cioè purtroppo, poi anche una fortuna, siamo una squadra che deve giocare con dei ritmi alti e deve avere la concentrazione e l'attenzione per tutti i 90-95 minuti perché appena stacchiamo poco poco la spina purtroppo becchiamo gollo oppure facciamo fatica. Essendo anche una squadra molto giovane dobbiamo avere ritmi alti, non ci possiamo permettere di abbassare i ritmi, di alzarli dieci minuti altrimenti si fa fatica. Anche gli avversari sono molto giovani, non esistono squadre proprio molto anziane. Comunque quello che vogliamo dire si è vista la quinta partita interna del Campobasso. A parte il San Nicolò non sono esistite queste grosse battistrate, insomma. Quello che possiamo dire facendo una valutazione sulla qualità del campionato. No, penso che sia infatti un campionato equilibrato, alla fine la spunterà chi è più continuo forse nei risultati. Effettivamente non è che la Civitanovese era più scarsa, più forte, oppure del San Marino. È un campionato livellato dove se noi abbiamo la giusta attenzione e concentrazione e scendiamo in campo facciamo quello che ci viene chiesto, ma a mille all'ora però possiamo battere chiunque, altrimenti facciamo fatica. Dopo la fine della partita si è presentato in sala stampa il presidente Perrucci ringraziando i 67 paganti di Campobasso Civitanovese. Si è giocato nel deserto, voi come avete preso questa mancata risposta del pubblico di fronte ad una squadra che comunque si impegna, meriterebbe forse più presenza allo stadio. La vostra opinione dei giocatori qual è? No, noi dobbiamo pensare solo a fare bene attraverso le prestazioni e soprattutto i risultati a riportare gente allo stadio. perché a noi fa piacere giocare davanti a tante persone, quindi sta solo a noi far sì che avvenga questo.